Un incendio è divampato oggi intorno alle 15 in un'abitazione situata in Bialanzo Monasterolo a Cafasse. Le fiamme scaturite dal camino hanno intaccato il tetto rendendo l'abitazione inagibile. Appena viste le fiamme la proprietaria ha chiamato un vicino. Stavo il compagniele insieme a una signora che chiacchieravamo, poi io sono uscito per andare a casa e lei mi ha chiamato. C'è fuoco, fuoco, fuoco e poi siamo forse. Poi abbiamo chiamato il vigile del fuoco. Sul posto sono intervenuti oltre ai carabinieri i vigili del fuoco di Nole Canavese e di Mati che hanno prontamente domato e spento l'incendio, nonché effettuato la messa in sicurezza lavorando per oltre tre ore. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS